Dalla Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo oggi Maria, Madre della Pede, per i giovani, affinché scoprano che donarsi al Signore è realizzare in pienezza la loro umanità. L'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria, ed ella concepi per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il verbo si fece carne, che venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo, oh nostro Signore. Amen. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Meditiamo oggi sui misteri del dolore, nel primo mistero, l'agonia di Gesù nell'orto dei Gezzemani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero del dolore, la flagellazione di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Glorie al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Terzo mistero del dolore, l'incoronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quarto mistero del dolore. La salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Svante Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quinto mistero del dolore. La crocifissione e morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Integrino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Grazie a tutti. 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 perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Preghiera di Papa Francesco. O Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, durante la pandemia ci riunivamo attorno a Te per chiedere la Tua intercessione. Ti abbiamo chiesto di sostenere i malati e di dare forza al personale medico. Abbiamo implorato misericordia per i moribondi e di asciugare le lacrime di quanti soffrivano nel silenzio e nella solitudine. Oggi ti preghiamo, in particolare, Regina della Pace, per supplicarti, concedi il grande dono della pace. Cessi presto la guerra che ormai da decenni imperversa in varie parti del mondo e che ora ha invaso anche il continente europeo. Siamo consapevoli che la pace è dono dello Spirito Santo. Abbiamo consacrato al Tuo cuore immacolato le nazioni in guerre e donato e domandato il grande dono della conversione dei cuori. Siamo certi che con le armi della preghiera, del digiuno, dell'elemosina e con il dono della Tua grazia si possono cambiare i cuori degli uomini e le sorti del mondo intero. Oggi eleviamo i nostri cuori a Te, Regina della Pace. Intercedi per noi presso il Figlio Tuo. Amen. L'eterno riposo Dona all'oro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Ripossino in pace. Amen. Il Signore sia con voi E con il Tuo Spirito Per intercessione di Maria Sempre Vergine vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Santa, Dio T'ha scelto Con un palpito d'amor Per dare a noi il Tuo Gesù Piena di grazia noi T'ha clamiamo Ave, 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 Ave Maria Ave, 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 Ave Maria Ave, 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 Ave tela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.